Siamo qui con il sindaco di Pusiano Maspero e con Andrea Parodi, artefici anche quest'anno di quel piccolo miracolo, mica tanto piccolo, che è il Buscadero Day che porta in provincia di Como nomi che vengono dagli Stati Uniti e dal resto d'Europa ed è il vero rock. Innanzitutto, signor sindaco, lei è un amante del rock, questo l'abbiamo capito, quanto ci mette della sua passione e quanto della sua funzione di sindaco in questa avventura? Beh diciamo che l'80% è la passione, il 20% è la parte ahimè più pratica, concreta, quella che deve permettere al bilancio sempre un pochino sofferto in questi tempi del nostro comune e comunque di ritagliare quello spazio e quindi di trovare delle risorse per poter garantire la riuscita anche con un adeguato cast del festival. Poi è chiaro che c'è un grosso contributo ormai costruito nel tempo con Andrea. Ecco, è possibile, penso improbabile, ma come è possibile quantificare anche una ricaduta in termini di visitatori e di economia sul paese di Pusiano e su tutto il lago derivante da questo festival? Ma io credo che numeri sia difficile farne, però sicuramente abbiamo comunque iniziato alcuni anni fa un percorso, si è consolidato, il festival comunque richiama in quei due, tre, e quattro giorni di durata delle persone, chiamiamoli aficionados che un pochino sul modello inglese-americano che può essere diffuso in tutta Europa, si fermano e quindi conoscono anche il lago e di conseguenza creano un piccolo indotto. È una strada che è in costruzione. Sicuramente ormai Buscadeo e Pusiano sono due, è un binomio che porta il nome di Pusiano appunto in giro per tutta Italia, grazie appunto anche alla rivista. Quest'anno grande casta, vero Andrea? Avete come al solito trovato il meglio tra quello che c'è di nuovo, ma anche ovviamente portando dei milestones, delle milestones assolutamente come appunto Steve Earle, che quest'anno appunto vedrà anche questo duetto un po' inedito con Davide Vandesforo. Sì, sì, siamo tutti molto eccitati per questa serata del 29, che ricordiamo è l'unica pagamento del festival. Davide Vandesforo si aprirà al concerto di Steve Earle. Si assomigliano, sono sicuramente artisti diversi, ma ci sono delle forti sinergie, in particolare probabilmente l'amore smisurato di entrambi verso Woody Guthrie, Bob Dylan e verso quel tipo di canzone proprio che nasce, proprio come raccontava Davide in conferenza stampa, con una chitarra acustica. Poi dopo ci puoi costruire, puoi avere intorno una super band di 10-12 elementi, ma se la canzone è forte, arriva assolutamente al cuore delle persone, anche nella misura più scarna, così come è nata. Sicuramente sarà un concerto da vedere, ma anche gli altri due giorni del festival sicuramente hanno degli spunti di grande interesse, con band locali, ma anche artisti che vengono, come dicevamo prima, dal resto d'Europa e anche dagli Stati Uniti. L'ultima cosa ancora, signor Sindaco, che riguarda una location molto bella che voi intendete sfruttare in futuro, che è appunto l'isola dei Cipressi, già quest'anno si potrà circonnavigarla, ma in futuro? Sì, diciamo che ho trovato finalmente la sponda giusta in Simone Gavazzi, stiamo iniziando un percorso, l'evento che ha fatto da Traino di recente è stato il matrimonio del calciatore nel Milan Ambrosini e dietro a questo evento contiamo di costruire, come dire, non tanto uno sfruttamento nel senso negativo, però la possibilità di utilizzare in futuro come location l'isola dei Cipressi, in merito alla quale vi posso garantire che è assolutamente spettacolare, unica, stupenda e in grado di rivaleggiare con le più belle location del lago di Como. Allora chiudiamo 26, 27 e 29 Pusiano, noi di Comaschi siamo davvero molto invidiosi di questa cosa che si svolge a pochi chilometri da noi ma che è in città difficile vedere. Grazie mille al signor Sindaco e ad Andrea Parodi. Grazie.